Io come tanti altri ragazzi siamo nati e cresciuti qui, addirittura i nostri bambini ci vengono portati dai nonni, dagli zii, sicché non è una cosa piacevole. Fortunatamente sembra che siamo riusciti, insomma, intanto il primo traguardo l'abbiamo superato. Via Lamianto da Via Malpighi, l'amministrazione comunale di Arezzo ha infatti anticipato 400.000 euro che serviranno per il risanamento dall'amianto delle coperture del caseggiato popolare. Ci sostituiremo ad Arezzo Casa, eseguiremo i lavori probabilmente in danno, nei prossimi giorni verrà messa in mora Arezzo Casa, se Arezzo Casa non provvederà a tutti gli effetti il comune sostituirà Arezzo Casa e provvederà alla rimozione dei tetti in amianto. Gli inquilini del caseggiato popolare gestito da Arezzo Casa si erano costituiti in un comitato dopo che una violenta tempesta lo scorso luglio aveva danneggiato la copertura in amianto dei tetti, dando così avvio alla propria battaglia anche attraverso una raccolta firme consegnata nelle mani del sindaco di Arezzo. La situazione attuale è che ci sono 3500 metri quadrati di tetto in amianto in non ottime condizioni direi e in più ci sono dei pannelli di cartone amianto un centinaio circa che andranno sostituiti. Il problema amianto infatti non riguarda unicamente la copertura del tetto bensì anche gli interni degli appartamenti di via Malpighi. C'è l'inoleum e alcune parti in amianto anche all'interno dovrebbe servire questa cifra anche per sistemare questo aspetto che poi è l'aspetto forse ancora più grave del tetto. Per ora se sta bene poi chissà perché basta una piccola pagliuzzetta che va nei polmoni, ciao cuore.